In Abruzzo, le agevolazioni sui bolli auto non pagati previste dalla cosiddetta pace fiscale incontrano un ostacolo privato alla Soget, che da quando si è distaccata da Equitalia un'organizzazione privatistica, ieri la denuncia nel servizio di Marina Moretti. Sono tanti cittadini obruzzesi che ogni giorno chiedono di sanare la propria situazione debitoria usufruendo delle agevolazioni, ma la risposta della Soget non lascia scampo alle illusioni. Tra le novità contemplate dalla cosiddetta pace fiscale in materia di regolarizzazione dei debiti nei confronti del fisco, c'è anche la rottamazione dei bolli non pagati. Il provvedimento è stato varato dal Governo per consentire a tutti i contribuenti con debiti pendenti di riappacificarsi con il fisco. Ma non è così per la Soget, la quale è precisa. La cosiddetta rottamazione e l'annullamento di crediti fino a 1000 euro sono stati disciplinati dal legislatore. Tale possibilità è stata prevista esclusivamente per le cartelle di pagamento affidate alle agenzie delle entrate riscossione ex Equitalia e non anche per le ingiunzioni fiscali che sono utilizzate dalle società private di riscossione e dagli enti locali che riscuotono direttamente. Insomma, un bel pasticcio. Per il bollo auto, ad esempio, gli automobilisti si rivolgono in particolare all'ACI che però, come ci dice il direttore di Chieti, Roberto D'Antuono, è solo il primo anello della catena. Sì, diciamo che adesso si sta concludendo un periodo che è iniziato dal mese di ottobre in cui la regione Abruzzo ha inviato gli avvisi di accertamento per i mancati pagamenti relativi all'anno 2015 e 2016. Nella provincia dell'Aquila stanno andando a recuperare anche i bolli che erano stati pagati nell'anno 2009 che erano stati sospesi per l'evento del sisma. Le richieste di pagamento vengono fatte in prima battuta dall'ACI dopo due anni. Poi tutti gli incartamenti vengono passati alla regione che si serve, manda l'avviso di accertamento che è quella, diciamo, la famosa busta verde che mette un po' di terrore nella gente e quindi, diciamo, i pagamenti poi vengono effettuati. Una parte residuale che noi possiamo stimare in circa il 10-15% delle persone che dovrebbero pagare il bollo arriva poi a queste strutture, a questi enti di riscossione. Quali sono le richieste più impellenti che vi fanno? Allora, la gente chiede della realizzazione. Al momento della realizzazione si può fare soltanto quando, al termine di tutto il percorso, quindi quando viene messa la cartella esattoriale. In futuro si potrebbero avere ulteriori problemi? Un decreto che viene applicato a macchia di leopardo, per cui in Abruzzo no, nelle Marche, faccio un esempio a caso, non so qual è la situazione, sì, non credo che sia proprio il massimo, diciamo, per un paese civile, per cui si spera in una sistemazione.